I segni del tempo sono sempre più visibili? Vuoi ridare tonicità e volume al tuo viso e guardarti allo specchio con più soddisfazione e ammirazione? Inizia ad allenare il viso, così come alleni il tuo corpo. Ti sentirai più bella e sicura di te, e lo noteranno anche gli altri. Grazie per la visione!